guarda che roba, non riesco a accendere sto computer, guarda che roba, si spegne, ma com'è possibile, è staccato ciao ragazzi sono Yes, vi volevo far vedere come si fa a comprare i biglietti delle ATP Finals andiamo su Google, digitiamo Nitto ATP Finals, a questo punto apriamo il sito, andiamo dove ci sono i biglietti scegliamo a questo punto la lingua, mettiamo italiano, acquista biglietti qui in basso è possibile comprare biglietti e abbonamenti, sceglietevi un biglietto a seconda del giorno che preferite dalla domenica alla domenica, sei giorni di round robin, il sabato due sessioni di semifinali al pomeriggio e alla sera e la finale la domenica a questo punto sceglietevi un biglietto guardate tutti i settori, ovviamente più in alto i biglietti saranno più economici, scegliamo un biglietto così un settore più che altro, non è possibile scegliere un biglietto, aggiungi al carrello a questo punto andiamo al carrello, io ho già scelto alcuni biglietti e qui possiamo continuare con gli acquisti, svuotare il carrello oppure andare alla cassa andiamo alla cassa, inseriamo tutti i nostri dati e paghiamo arrivederci amici di IES, ciao ciao